Adesso c'è anche il decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana Marco Zambuto che fissa l'elezione amministrativa in Sicilia per domenica 10 ottobre e lunedì 11. Date queste che riguardano anche Adrano che dopo la mozione di sfiducia dello scorso 28 marzo ha fatto decadere sindaco Giunta e Consiglio Comunale e le cui funzioni sono state assunte dal commissario straordinario Angelo Saieva. Si vota domenica 10 ottobre dalle 7 alle 22 e lunedì 11 ottobre dalle 7 alle 14. Subito dopo si potrà procedere con lo scrutinio. Ufficiale anche le date dell'eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 24 ottobre dalle 7 alle 22 e lunedì 25 ottobre dalle 7 alle 14. Ad Adrano si voterà col sistema proporzionale, saranno oltre 35 mila iedraniti chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale che sarà formato da 24 consiglieri. Dunque tra due mesi esatti Adrano potrebbe avere ballottaggio permettendo il suo nuovo primo cittadino. Oltre ad Adrano si voterà anche in altri 4 comuni etnei, Caltagirone, Giarre, Gran Michele e Ramacca. In tutto saranno 42 comuni siciliani chiamati alle urne tra scadenza naturale del mandato elettorale, comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e commissariati a seguito della mozione di sfiducia.